40 S veloce 20 destra 4 più più 20 frena poco destra 3 in sinistra 3 20 destra 4 per frena ritarda destra 3 più 2 tempi in sinistra 3 più anticipa 40 frena forte sinistra 3 meno meno chiude, apre, apre, chiude subito in destra 3 più 50 destra 4 20 scende a sinistra destra 5 più per destra 5 più 30 frena forte destra intornante sinistro ritarda, attenzione 30 sinistra 4 più in sinistra 4 più frena poco destra 3 più 30 frena molto non chiudere destra 3 meno 20 ma che è sto rumore? sinistra 3 più apre, apre, chiude 40 destra 2 più apre 40 sembra che abbiamo rotto il collettore qualcosa destra 4 30 ritarda, ritarda sinistra 4 meno lunga occhio all'uscita frena per destra 3 più 2 tempi il secondo chiuso subito sinistra 4 più per destra 5 in sinistra 4 più anticipa tieni per sinistra 4 ritarda 50 sinistra 4 più deciso anticipa apre 30 siamo al biglio sinistra 5 gira, gira, gira biglio in destra 5 più lunga attenzione destra frena poco tornante sinistro per sinistra 5 40 sinistra e frena tornante destro anticipa apre 200 destra 5 più 20 attenzione frena forte tornante sinistro apre 100 sinistra e frena tornante destro apre 200 destra 5 20 frena destra tornante sinistro anticipa 30 30 destra 2 ritarda chiude apre 40 S veloce 50 ricorda appoggia sinistro sinistra 5 meno meno tieni su ponte in attenzione in attenzione frena e se veloce chiude a destra 40 sinistra 4 frena per attenzione destra 3 subito tornante sinistro attenzione 40 tornante destro anticipa 30 30 tornante sinistro ritarda poco chiude per tornante destro anticipa per essere veloce per destra 3 più secca 20 tornante sinistro ritarda chiude in tornante destro anticipa chiude 40 tornante sinistro apre 40 tornante destro anticipa apre in sinistra 4 più per sinistra 4 più apre apre chiude 50 sinistra 3 più per attenzione frena volto tornante destro ritarda chiude 50 destra 4 più 20 frena volto tornante sinistro chiude apre 60 attenzione frena molto tornante destro 20 tornante sinistro apre apre chiude ma c'è qualcosa no? ma le palle porco giuda mi trattavo le palle no ma quello non è un problema quelle ma ci sono non ci sono ormai hai fatto due figli che non hai cercato più SSPP serve solo per pisciare ho guidato male? no però il problema è che la macchina fa così da sconcentrata in alcuni punti ma quanto ha fatto quello io 535 sto non è che quello la macchina è un po'